Passa otto ore del pronto soccorso dell'ospedale cittadino in attesa di un'ecografia nonché di una consulenza radiologica per la problematica in atto, alla fine una 91enne residente in città ha chiesto le dimissioni per i prolungati tempi di attesa, come viene specificato nel referto e si è recata nel vicino allo soccomio di popoli, accompagnata dai propri congiunti per la prestazione sanitaria richiesta. L'ennesimo episodio, che risale a pomeriggio dello scorso venerdì, riaccende riflettori sulla carenza di organico che sta letteralmente mandando in affanno il locale presidio ospedaliero, è il caso della radiologia che da alcuni mesi si ritrova a operare con soli quattro medici in pianta organica insufficienti per fronteggiare la mole di lavoro. A ciò si aggiungono i tempi di diagnosi che restano differenti a seconda del medico operante, come accade d'altronde anche nel pronto soccorso, sempre più intasato anche per venire meno della diagnosi sul territorio, il cosiddetto filtro. La nonna ultra novantenne era stata presa in carico intorno alle 11 del mattino e per oltre un'ora atteso all'esterno nell'area del pre-triage ancora sprovvista di una copertura esterna e di un'area di accoglienza. Dopo lo svolgimento del tampone le è stato assegnato il codice in pronto soccorso, dove è rimasta per otto lunghissime ore senza alcuna rassicurazione sulle tempistiche dell'ecografia richiesta, senza un bicchiere d'acqua, senza la possibilità di andare al bagno, raccontano i congiunti. A quel punto l'anziana, non senza tensioni, viste le sue legittime richieste ai sanitari operanti, ha firmato le dimissioni per farsi accompagnare a popoli, dove le sarà diagnosticata una calcinosi nel giro di un'ora. Nonostante l'età e il dolore, ha trascorso una giornata tra gli ospedali, peraltro è stata dimessa con l'ago cannula, concludono i parenti dell'anziana. Nei mesi scorsi una 95enne ha teso ben 15 ore prima di essere ricoverata in corsia, un sistema in evidente difficoltà per diversi fattori. I ritmi di lavoro risultano intensi e stenuanti in diversi reparti, ed ecco che tra prestazioni programmate, consulenze ed emergenze, talvolta non si arriva ad assecondare le esigenze dell'utenza. Non appare dignitoso che un malato debba rimanere appeso, una sala d'aspetto, l'emosinando cure ed assistenza sanitaria. D'altro canto il personale sanitario cerca di fare quello che può, ma i problemi sono a monte. Forse è il caso che chi parla di sanità si faccia un giro tra ospedali e strutture, perché il tempo delle passerelle e delle ricognizioni prima o poi deve finire.